Oh ma che cazzo stai facendo? Perché non ce ne va a fare un giro? Ma devo leggere Oh Valentina, sai di cosa voglio? Voglio leggere un po'? Dai, mi apri un po' il libro Dai, ah, un secondo, dai, che ti costo? Voglio leggere un po'? Dai, ah Bravo Oh, pagina è ben torto Eh, senti, portala un po' più su, così, ah, così, ah Tegli quella mano, bravo Serma così Ciao! Ciao! Grazie a tutti.